Dal primo di febbraio il Comune di Arcola renderà disponibile, come tutti gli anni, un bando affitti. Quante sono le famiglie che potranno essere aiutate? Il Comune ha stanziato delle risorse e finalizzato ad aiutare le famiglie residenti nel Comune di Arcola in un momento difficile. Con il caro bollette, con l'aumento della benzina, è sempre più importante anche da parte dell'istituzione andare incontro alle famiglie in stato di bisogno. Grazie ad un contributo regionale sono a disposizione 86.000 euro complessivi che verranno messi a disposizione in questo bando che è attivo dal primo di febbraio al 15 di marzo rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore ai 16.700 euro. C'è la possibilità ovviamente di fare domanda dal primo di febbraio al 15 di marzo attraverso il nostro ufficio protocollo compilando il modulo che è a disposizione presso gli uffici comunali o scaricabile anche dal sito del Comune. Sicuramente è un aiuto rivolto alle famiglie il primo dell'anno, un'opportunità per numerose famiglie. Ovviamente verrà stilata una graduatoria dopo il 15 marzo, ma la speranza è quella di andare incontro a più persone possibili in stato di bisogno. Un'altra iniziativa molto apprezzata è la Carta dei nuovi nati, una cosa che il Comune di Arcola porta avanti da tre anni. Sì, tre anni fa abbiamo deciso di mettere a disposizione una carta auguri per le famiglie che hanno il dono di un bambino per poter spendere delle risorse dai 150 ai 200 euro presso le farmacie comunali e presso i negozi per bambini. Ovviamente quest'anno sono state aiutate numerose famiglie, anche se c'è da registrare, un tasso di natalità inferiore. E questo è un dato che deve far riflettere. Lo scorso anno abbiamo avuto 65 nuove nascite nel 2021, nel 2022 solamente 43. Ed è per quello che le istituzioni devono fare il proprio dovere e quindi riproporre più aiuti possibili o più possibilità rivolti alle famiglie che comunque hanno il dono di un bimbo. E quindi anche nel 2023 cercheremo di confermare questa misura e fare ancora di meglio.